Ah, Capitano Kenway, useremo la tua nave per il nostro piano o la mia? Voglio sapere i dettagli prima di decidere. Beh, sarà un azzardo. Questo informatore sostiene che il tesoro che cerco è su un galeone non lontano da qui. Per il suo bene spero sia vero. Hai già pensato a un piano? Certo. Grazie a lui otterremo una bandiera portoghese che servirà ad avvicinarci il più possibile. È un'idea molto semplice. Se seguirai i miei ordini alla lettera. Con la check door? Ottimo. Salve a tutti amici di Showcamere Pro e bentornati in questo nuovo episodio di Assassin's Creed 4 Black Flag. Allora, trovo una nave portoghese. Andiamo a trovarla. Abbiamo trovato il nostro caro amico Roberts. E adesso si può dire che il nostro capitano ci comanda lui. Vedete quanto pretende. Non solo è un saggio, ma adesso è diventato anche capitano. Quindi è diventato molto severo. Bisognerebbe mettere un'insegna all'ingresso del paese. Benvenuti a Casnewit Bar. La città è già buona. Questa missione è un po' complicata. Però proveremo a giocarcela al meglio. Ok ragazzi, dobbiamo rubare la bandiera. Quindi adesso ci tuffiamo in mare e proviamo a rubare la bandiera. Però senza farci vedere, nuotiamo furtivamente. In modo da... Vedete come parlano? Perché comunque si vede che la nostra nave porta la bandiera dei pirati. Quindi... Ok, adesso dobbiamo vedere però come salire. Perché dovremmo teoricamente passare da lì. Vabbè dai, ce la possiamo fare. Anche se c'è qualche piccola guardia qui e lì. Adesso è il momento adatto per salire. Sono tutti girati. Compone la maggior parte della nostra frotta, signore. I nostri 42 naviuri Direi che più di due stessi sono imbarcazioni mercantiche. Ah, che fortuna. Non ci ha visto neanche quella guardia lì. Allora. La bandiera dov'è? Ah, lì. Quindi dobbiamo passare dall'altro lato. Io direi... Intanto di scendere. Adormentare il cecchino lì su. Ok, con una botta di culo siamo atterrati qui. Oh, cazzo. Ok, l'abbiamo addormentato. Almeno per ora. Almeno lo teniamo un pochettino... Eh, a nanna. Ok, abbassa la bandiera e ce la tiriamo in modo che la montiamo sulla nostra nave. Guarda caso, non ci sono accorti di niente. Cioè, gli sono stati con la barca davanti. Vabbè, dettagli. Ok, io direi di... No. Che botta di culo, ragazzi. Veramente, è una botta di culo di quelle allucinanti. Allora, usciamo da... Dalla vista qua, dalla zona segnata e saliamo sulla Jack Doe. Ok, dai. Siamo arrivati alla Jack Doe. Vediamo se decide Edward Kenway a salire. Ok. Andiamo al timone. Trova la nostro senior. Senior, una cosa del genere. Ok, dai. Ok, rimaniamo a distanza. Camminiamo lentamente. Andiamo l'MLM. Dobbiamo camminare un po' svelti anche se dobbiamo stare attenti alle raffiche. Vedete qui. E niente, dai. Andiamo a trovare la nostro senor. Per ora non c'è tanto da dire. Per ora. Cioè, abbiamo quasi finito il gioco. Io non vedo niente. Ha solo le braccia messo in posizione di squat. Forse farà palestra. Vabbè, a parte queste minchiate che stiamo sparando andiamo e avviciniamoci. pieno piano perché è pienissimo di guardie. Proprio strapieno. Quindi andiamo senza farci beccare. Ok, dai. Eh, il capitano della nave è impegnato a rubarvi le cose. Ci pensate veramente lo dice. Proprio, sarebbe il massimo. Beh, le guardie che... Cioè, non per forza le dobbiamo uccidere tutte. Ok. Questa l'abbiamo d'altro in mezzo alle palle. Piano piano li uccidiamo tutti se ci riusciamo anche se la cosa è un po' difficile. Però, ci proviamo. Nel frattempo passiamo da qui. Cazzo. Per poco non ci beccava. Per fortuna... Ok, dai. Ci siamo inseriti bene. Guardiamo un pochettino com'è la situazione. Eh, siamo accorti di dardi. Eh, è qui veramente pieno di guardie. Eh, dovremmo fare fuori prima quella. Anzi, facciamo fuori prima questa qui. Vediamo se sta vicina. Ok, dai. Dobbiamo stare attenti anche al cecchino. Vedete, quello è girato quindi dobbiamo aspettare che si gira anche se ho timore che quello si possa... Vabbè, facciamo così. Vedete, vedete le cose all'ultimo minuto riescono sempre bene. Eh, ho parlato troppo. No, 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 no. Ok, fiale di sangue vuoto. Segui la nave. Ed è saggio. Figuratevi se era... Cioè, un folle. Comunque, andiamo... Seguiamo questa nave che neanche riesco a vedere. Mamma mia, quanto è pieno di nemici. Sono messe proprio fatte apposta per non farci passare. Quindi dobbiamo seguirla eh... senza... Anche se c'è nebbia non si vede bene. Vedete qui che è pieno pure di scogli. Dobbiamo stare veramente attenti. Ok, cazza e camminiamo. Ok, libera la rotta dalla Jack Doe quindi dobbiamo eliminare le sentinelle. Ok, dai. non è un problema per noi anche se siamo a corto di dardi ed è pienissimo di nemici. Però, però ce la possiamo fare. Forza e coraggio che dopo aprile viene maggio. E vai. Che mossa veramente. Un po' due in un colpo veramente fenomenale. ok, due in un colpo anche qua abbiamo fatto strike proprio veramente stiamo migliorando alla fine del gioco. Eh... e lì c'è un'altra quindi dobbiamo scendere anche se da qui non mi fido no, no non uccidiamo nessuno sennò andiamo via mare vedete camminano a due a due come i poliziotti e noi li fotteremo a due a due occhio 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 porca troia per fortuna abbiamo avuto una botta di culo di quelle enormi ok che bello stealth questo sì che è puro stealth eh stealth è un paio di palle ne è scappato uno andiamo subito a uccidere eh cazzo si è bloccato minchia non fate così e mi incazzo e dai però stiamo facendo ogni volta facciamo così non parlo più ogni volta che dico che è un ottimo stealth finisce sempre per finisce sempre per cioè finisco sempre per fare una figura di merda quindi non parlo più e lasciamo andare le cose per come vanno prendi il controllo della nave facciamo così saliamo anzi no prima deprediamo qui è appunto legname che ci serve e poi intanto uccidiamo questo qui dopo di che saliamo sulla postazione sulla postazione e cerchiamo di uccidere il capitano in modo da prendere il controllo della nave anche se potremmo ucciderlo in volo dico noi ci proviamo ma mi sembra un po' difficile comunque provare non fa male dai vediamo se ci riusciamo se ci riusciamo siamo veramente dei pro bello proprio cosa da pro ci siamo riusciti al 100% a bombazza dai dai siamo pronti la cosa brutta però che non mi lascia soddisfatto è che ogni volta che abbiamo una nave grossa finisce sempre che praticamente non ce l'abbiamo non rimane mai nostra cioè la prendiamo la rubiamo gli rimane sempre a qualcun altro mai a noi comunque scappiamo e vediamo queste navi mamma mia come saltano queste navi sono gigantesche queste navi eh questa sì ne vorrei una come questa è che Che cazzo guardate dove siamo andati E che giustamente è lenta la nave Ok dai stiamo quasi per arrivare Anche se lentamente Fuggi con la miraglia Che nave gigantesca veramente Ok e che guerra sia Dobbiamo diventare anonimi Dobbiamo batterle ma mi sa Abbiamo poca vita Ok adesso penso che siamo anonimi Ah no ci sono quelle lì È veramente una rottura di palle Beh queste dovremmo batterle come niente fosse Dai dai Ce la possiamo fare Questa non è buona neanche per andare a pescare L'ultima barca che ho abbattuto Fuggiamo con la miraglia Ecco il bottino I Templari si sono dati da fare Il sangue di Lawrence Prince Inutile ormai Woods Rogers, Ben Hornigold, persino Torres Piccole quantità per uno scopo assai speciale Devi portarmi all'osservatorio Roberts Devo sapere che cos'è A che pro? Eh? Vuoi venderlo sotto il mio naso? O mi aiuterai e faremo fortuna entrambi Voglio soltanto una vita agiata Sei ridicolo Una vita breve e intensa Ecco il mio motto L'ottimismo non è il mio forte Va bene capitano Kenway Te lo sei meritato Ok dai Obiettivi secondari Ah ecco Comunque abbiamo operato Uccidere il capitano usando una corda oscillante È stato veramente una cosa da pro Cioè ci rivediamo con un altro episodio Spero che il video vi sia piaciuto Come sempre lasciate tanti like E tanti commenti E condividete se il video vi è piaciuto veramente Qui è tutto da Showgamer Pro Showgamer Pro